Quest'anno, se volete venire, il premio ci sarà al Museo della Terra Latina, qui alla Latina. Sarà premiato anche la nostra messicana per il progetto FIDALTAL. FIDALTAL. Buonasera. 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 anche della Fiera di Roma, da un incontro nazionale, un incontro amato, con i bellissimi dipinti di D'Acarno che c'erano fatte l'altra legge. C'erano fatte tutta l'altra legge, c'erano anche un dipinto bellissimo, quello del Floriano, e che l'abbiamo presentato. Quindi adesso, il primo giugno, dobbiamo fare la legge anche della mostra, come diceva la carina Milena, e a 360 gradi che ci sarà anche il teatro, tutta la musica che si canta, per raccontare chi non conosce quelli da casa. Quindi vi aspettiamo.